Personale della squadra mobile della questura di Messina e del GICO, nucleo PEF della Guardia di Finanza, nell'ambito delle attività investigative connesse allo sbarco di migranti giunti a bordo di un'imbarcazione della Guardia Costiera, 250 persone di varia nozionalità, nella mattina del 1 settembre, ha sottoposto a fermo di polizia giudiziaria tre cittadini egiziani di età compresa tra i 19 e i 21 anni, indiziati dal reato di favoreggiamento dell'immigrazione clandestina. Nel dettaglio, alle 8.30 circa di giovedì, 1 settembre, è giunto presso il molo Norimberga una tantella guardia costiera con a bordo 250 migranti provenienti da Egitto, Siria e Afghanistan. I migranti sbarcati nel centro erano stati tratti in salvo nell'ambito di una vasta operazione di soccorso e recupero coordinata dalla Capitaneria di Porto, all'esito della quale 540 persone erano state soccorse in mare aperto e poi fatte sbarcare nei porti di diverse località italiane, Messina, Catania e Rocella Ionica. Ultimate le operazioni di sbarco, la Procura della Repubblica di Messina ha coordinato le attività investigative immediatamente avviate al fine di comprendere le dinamiche del viaggio ed identificare eventuali scafisti. Le informazioni rese note da alcuni migranti hanno consentito di appurare, come dopo un periodo di permanenza in dei capannoni, luoghi di transito dove i migranti sono tenuti rinchiusi in attesa della traversata, sulle coste libiche, all'alba del 27 agosto un barcone in ferro di circa 20 metri è partito alla volta dell'Italia. I migranti, sentiti dagli investigatori della squadra Mobi e dal Gico della Guardia di Finanza, hanno riferito di aver sborsato la somma di 130.000 dineri egiziani, poco meno di 7.000 euro per la traversata, descrivendo le attività posti in essere da alcuni soggetti che si sono comportati come l'equipaggio annatante, poiché hanno provveduto a fornire cibo e acqua ai migranti e hanno mantenuto l'ordine a bordo e hanno governato l'imbarcazione, permanendo nella parte superiore, andando giù in stiva, dove erano ammassate le oltre 500 persone, soltanto sporitecamente. Sulla base degli elementi raccolti, i tre soggetti, tutti in nazionalità egiziana, sono stati sottoposti a fermo di polizia giudiziaria per il reato di favoreggiamento e l'immigrazione clandestina, espletate le formalità di rito condotti presso la casa circondariale di Messina-Gazzi.